Buongiorno, sono Stefano Trabucchi, maestro di utaio di Cremona. Anche quest'anno mi ritrovo a fianco forte in una nuova location, completamente cambiata rispetto agli anni passati. E come tutti gli anni presento i miei strumenti, i miei violoncelli, i miei violini. Io ho il laboratorio a Cremona, in via Bellarocca 14, nel centro di Cremona, proprio di fianco al Museo del Violino, che invito tutti a visitare. Quello che sta riprendendo è uno degli ultimi miei violoncelli, che ho portato qua in fiera, è stato molto apprezzato, è dotato anche delle nuove corde che la Pirasto ha appena introdotto sul mercato, le Perpetual, che hanno un risconto molto positivo dai musicisti. è un fondo, è un violoncello a due pezzi, con un fondo a due pezzi, con una vernice all'alcol, la mia tipica produzione. Mentre questo violoncello ha un fondo, ha un pezzo unico, che è molto raro da trovare e molto costoso anche. Ho anche la produzione dei violini, come potete vedere. Questo è un violino modello Guarneri, Lord Wilton, che prenderà il volo per gli Stati Uniti. Anche quest'anno i mercati principali sono sempre l'Asia, e gli Stati Uniti, e anche la Germania, qualcuno della Germania. Questa è una viola, un modello personale, una misura di 41 cm. Un fondo unico, con una bellissima e particolare marezzatura. Montata in bosso, con il mio logo sulla cordiera. Sono piccoli particolari che piacciono anche alla clientela. Quindi invito tutti a venire a Music Messe, oppure a Cremona, nel mio laboratorio, o anche il mio sito internet, www.trabucchi.com, info.trabucchi.com, a visita a Cremona, che è sempre una bella città. Grazie. 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 Grazie.